Come si esegue una moltiplicazione tra frazioni? Calcolare questo prodotto significa trovare i tre quinti di tre quarti. Rappresentiamo l'intero con un rettangolo. Questi sono tre quarti. Dividiamo ancora tutto il rettangolo in cinque parti. E consideriamo tre parti della quantità evidenziata prima. Il risultato della moltiplicazione è 9 ventesimi. Infatti, complessivamente, le parti in cui è diviso l'intero sono 20, cioè il prodotto dei denominatori dei fattori. E le parti considerate sono 9, cioè il prodotto dei numeratori dei fattori. Se possibile, è utile effettuare una semplificazione a croce per rendere più facili i calcoli. Cioè, si possono dividere per un fattore comune il numeratore di una frazione e il denominatore dell'altra. A questo punto, si calcola il prodotto applicando la regola trovata in precedenza. Grazie. 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 Grazie a tutti